Come stanno evolvendo gli spazi didattici? Come si integrano le attività in aula con quelle online? E come dobbiamo gestire i nostri spazi per accogliere le sfide dei cambiamenti futuri? In questo breve corso che segue e si integra con il MOOC Smart Learning Design, proviamo a rispondere a queste domande, proponendovi una serie di modelli e soluzioni che ci possono guidare verso l'evoluzione dell'aula in uno spazio di apprendimento, di capire quali sono i setting didattici che possono essere utilizzati dai docenti, di individuare le caratteristiche di una smart classroom e cosa ci serve per poterla costruire. Con questo corso non vogliamo fornirvi un manuale d'uso, ma uno strumento concreto di riflessione sui possibili scenari futuri, condividendo la nostra esperienza di questi anni sul tema.